Capitolo 45 Odiavo il giorno prima della partenza perché era il giorno delle pulizie e quando eravamo piccoli non avevamo il permesso di andare in spiaggia per la paura che portassimo nuova sabbia in casa. Lavavamo le lenzuola e spazzavamo i pavimenti, ci assicuravamo che tutte le tavolette da surf e i salvagenti fossero nel seminterrato, pulivamo il frigo e preparavamo i panini per il viaggio di ritorno. Era mia madre a dirigere la giornata, era lei a insistere che tutto dovesse procedere a quel modo. Così sarà tutto pronto per la prossima estate, diceva. Non sapeva che Susanna chiamava l'impresa di pulizie dopo la nostra partenza e prima del nostro arrivo. Una volta sorpresi Susanna al telefono mentre fissava un appuntamento. Coprì la cornetta con una mano e mi sussurrò con aria colpevole, non raccontarlo a tua madre va bene belli? A noi, quello era un nostro segreto e ne ero felice. A mia madre piaceva sul serio pulire e credeva che fosse sbagliato affidare a donne delle pulizie, cameriere o altra gente il lavoro che spettava a noi. Diceva, chiederesti a qualcuno di lavarti i denti o allacciarti le scarpe se potessi? La risposta era no. Non preoccuparti troppo della sabbia, sussurrava Susanna quando mi vedeva scopare per la terza volta il pavimento della cucina. Io continuavo comunque a spazzare. Sapevo cosa avrebbe detto mia madre se avesse sentito qualche granello di sabbia sotto i piedi. A cena quella sera mangiamo tutti gli avanzi rimasti nel frigo. Era la tradizione. Mia madre riscaldò due pizze surgelate, riscaldò del cibo cinese, fece un'insalata di sedano bianco e pomodori. C'erano anche un po' di zuppa di vongole, alcune costolette di maiale e un'insalata di patate fatta da Susanna più di una settimana prima. Era una cozzaglia di sapori che nessuno avrebbe avuto voglia di assaggiare. Ma noi lo facemmo. Ci sedemmo attorno al tavolo della cucina e pilucammo il cibo da piatti coperti di carta stagnola. Conrad mi lanciava occhiate furtive e ogni volta che io mi giravo a guardarlo lui distoglieva lo sguardo. Sono qua, avrei voluto dirgli. Sono ancora qua. Ce ne stavamo tutti zitti quando ad un tratto Jeremiah ruppe il silenzio come si rompe la crosticina della creme brulee. Disse, questa insalata di patate sa di alito cattivo. Forse è il tuo labbro superiore, replicò Conrad. Ridemmo tutti e fu un sollievo. Sapere che si poteva ridere, che non bisognava essere solo tristi. Poi Conrad aggiunse, questa costoletta è ammuffita e riprendemmo tutti quanti a ridere. Mi sembrava di non ridere da una vita. Mia madre alzò gli occhi al cielo. Pensi che un po' di muffa ti ucciderà? Basta toglierla. Da me la mangio io. Conrad alzò le mani in segno di resa e poi infilizzò la costoletta con la forchetta per lasciarla ricadere sul piatto di mia madre con aria solenne. È tutta tua, Laurel. Questi ragazzi sono proprio viziati, Beck, sentenziò mia madre. E tutto tornò normale, come qualsiasi altra sera. Belli è cresciuta mangiando avanzi, non è vero, cocca? Sì, confermai. Sono stata una bambina trascurata, non dritta soltanto di cibo che nessun altro voleva. Mia madre trattenne un sorriso e spinse verso di me l'insalata di patate. È vero, Livizio, ammise Susanna toccando la spalla di Conrad, poi la guancia di Jeremiah. Perché non dovrei? Sono due angeli. I ragazzi si scambiarono una breve occhiata attraverso il tavolo. Poi Conrad disse, io sono un angelo. Jeremiah mi pare più un cherubino. Quindi allungò una mano e arruffò brutalmente i capelli di Jeremiah, che gli allontanò la mano con un colpo secco. Lui non è un angelo, è il demonio, rispose. Fu come se il litigio tra loro fosse stato cancellato. Tra ragazzi era così, litigavano e poi tutto tornava come prima. Mia madre prese la costoletta di Conrad, la guardò e la rimise giù. Non ce la faccio a mangiarla, sospirò. La muffa non uccide, dichiarò Susanna, ridendo e togliendosi i capelli dagli occhi. Sollevò la forchetta in aria. Sapete cosa uccide? La fissammo tutti quanti. Il cancro? Disse con tono trionfante. Aveva una faccia totalmente inespressiva. Mantenne quella faccia per quattro interi secondi. Poi scoppiò a ridere a crepapelle. Passò la mano tra i capelli di Conrad, finché lui non mostrò un sorriso. Capì che non voleva sorridere, ma lo fece, per lei. Ascoltatemi, continuò Susanna. Ecco che cosa succederà. Sto andando dal lagopuntore, sto prendendo le medicine, sto ancora combattendo con tutte le mie forze. Il mio dottore dice che a questo punto è il massimo che io possa fare. Mi rifiuto di iniettare altro veleno nel mio corpo o di trascorrere altro tempo in ospedale. È qua che voglio stare, con le persone che contano di più per me. Va bene? Ci guardò. Va bene. Lo dicemmo tutti, anche se non era affatto vero e non lo sarebbe mai stato. Susanna proseguì. Sì, e quando me ne andrò danzando nell'aldilà, non voglio avere l'aspetto di una che è rimasta chiusa in ospedale per tutta la vita. Voglio almeno essere abbronzata. Voglio essere abbronzata quanto belli. Mi indicò con la forchetta. Bec, se vuoi essere abbronzata quanto belli, avrai bisogno di altro tempo. Non basta un'estate. Mia figlia non è mica nata abbronzata. Ci vogliono anni. E tu non sei ancora pronta, disse mia madre. Lo disse in maniera semplice, logica. Susanna non era pronta. Nessuno di noi lo era. Dopo cena andammo ognuno per conto proprio a preparare le valigie. La casa era silenziosa, troppo silenziosa. Rimasi nella mia stanza a mettere via i vestiti, le scarpe, i libri, finché non arrivai a mettere via il costume. Non ero ancora pronta per farlo. Desideravo un'ultima nuotata. Lo indossai e scrissi due biglietti. Uno per Jeremaya e uno per Conrad. Nuotata di mezzanotte. Vediamoci tra dieci minuti. Infilai il biglietto sotto ciascuna porta e poi corsi al piano di sotto più in fretta che potevo, con l'asciugamano che mi ondeggiava dietro come una bandiera. Non potevo lasciare che l'estate finisse così. Non potevamo andarcene da quella casa senza aver passato un ultimo bel momento insieme. La casa era buia e mi feci strada fino all'esterno senza accendere le luci. Non ce n'era bisogno. La conoscevo come il palmo della mia mano. E poi mi tuffai. E mi riuscì anche bene. Quello sarebbe stato l'ultimo tuffo dell'estate. Forse l'ultimo in assoluto, in quella casa, se non altro. La luna era splendente e chiara e mentre aspettavo i ragazzi, sdraiata pancia in su, mi misi a contare le stelle e ad ascoltare il mare. Quando era bassa marea, l'oceano mormorava e gorgogliava e pareva una ninna nanna. Desiderai che quel momento non finisse mai. Che come una palla di neve di plastica, quel breve momento ristasse fissato nel tempo. I ragazzi di Beck uscirono assieme. Immaginai che si fossero incontrati per le scale. Indossavano i costumi da surf. Mi accorsi di non aver mai visto Conrad in costume in tutta l'estate e che non avevamo più nuotato assieme in piscina dopo quel primo giorno. Con Jeremia avevo nuotato in mare solo un paio di volte. Era stata un'estate in cui il nuoto aveva avuto poco spazio, se si faceva eccezione per le volte in cui avevo nuotato con cam o da sola. Quel pensiero mi rese terribilmente triste. Quell'estate avrebbe potuto essere l'ultima e non avevamo quasi mai nuotato assieme. Ciao, dissi. Conrad infilò la punta del piede nell'acqua. È un po' freddino per nuotare, non ti pare? Coniglio, risposi. Salta dentro e falla finita. I due si guardarono. Poi Jeremia prese la rincorsa e si buttò a bomba e Conrad lo seguì. Sollevarono un sacco di spruzzi e io bevi perché stavo ridendo, ma non me la presi. Raggiungemmo il lato più profondo e io agitai le gambe per restare a galla. Conrad mi raggiunse e mi tolse la frangia dagli occhi. Fu un giusto rapido, ma Jeremia lo notò e si voltò dall'altra parte, raggiungendo l'altra estremità della piscina. Per un istante mi sentii triste e poi tutto d'un tratto, dal nulla, mi ricordai di una cosa. Un ricordo pressato nel mio cuore come una foglia in un libro. Sollevai le braccia e roteai come una ballerina di nuoto sincronizzato. Piroettando, presi a declamare Maggie e Millie, Molly e May. Jeremia recitò il verso seguente. Poi proseguì io e di nuovo lui. E infine assieme, compreso Conrad, dicemmo. Perché qualunque cosa perdiamo, come un te o un me, è sempre noi stessi che troviamo nel mare. Era la poesia preferita di Susanna. Ce l'aveva insegnata molto tempo prima, quando eravamo ancora bambini. Ci stava accompagnando in una delle sue passeggiate nella natura, nelle quali ci indicava le conchiglie e le meduse. Quel giorno camminammo lungo la spiaggia, a braccetto, e declamammo la poesia a voce talmente alta che secondo me svegliamo i pesci. La conoscevamo come il giuramento di fedeltà alla bandiera, a memoria. Forse questa sarà la nostra ultima estate qua, dissi d'un tratto. Neppure per idea, rispose Jeremia galleggiando verso di me. Questo autunno Conrad andrà all'università e tu andrai al campo estivo di football, gli ricordai. In realtà, il fatto che Conrad andasse all'università e Jeremia al campo estivo di football per due settimane non ci avrebbe impedito di tornare al mare l'estate seguente. Non dissi ciò che tutti noi stavamo pensando, ovvero che Susanna era malata, che forse non si sarebbe mai ripresa e che lei era il filo che ci teneva uniti. Conrad scosse il capo. Non ha importanza, noi torneremo sempre. Per un attimo mi domandai se facesse riferimento solo a se stesso e Jeremia, ma poi aggiunse. Tutti noi. Mi zitti nuovamente e poi ebbi un'idea. Facciamo un vortice, proposi battendo le mani. Sei proprio una bambina, rispose Conrad sorridendo e scuotendo il capo. Per la prima volta non mi infastidi che mi desse della bambina. Mi parve un complimento. Andai al centro della piscina. Venite ragazzi! Mi raggiunsero, ci mettemmo in cerchio e iniziamo a correre il più in fretta possibile. Più forte! Gridò Jeremia ridendo. Poi ci fermammo, rilassammo il corpo e ci lasciamo trasportare dal vortice che avevamo appena creato. Io reclinai la testa all'indietro e lasciai che la corrente mi trascinasse. Capitolo